Ben ritrovati in un nuovo video di viagisacri.com oppure youtube.com slash viagisacri. Oggi ci troviamo nel comune di Morbo Inferiore, nel canton Ticino in Svizzera. Alle mie spalle potete vedere la basilica dedicata a Santa Maria dei Miracoli. Qui infatti il 29 luglio del 1594 le due ragazze Angela e Caterina vennero miracolate. Infatti le loro madri le portarono qui perché erano malate e possedute e davanti a un'immagine della Madonna che allatta il figlio Gesù vennero liberate da tutti i loro mali.